Bentornati su MyFootballJersey, l'avrete sicuramente riconosciuta. Questa è la prima maglia della Roma per la stagione in corso, è un'edizione player, vi ricordo che l'edizione player è quella più sfiancata e tecnica pensata per i calciatori. Grazie a tutti! La maglia è veramente molto bella, l'avevo presa già in versione fan, la trovate qui in alto la recensione, questa è in versione player con gli sponsor finalmente corretti, tutte le rifiniture al posto giusto, è veramente stupenda. Il costo lo vedete, non c'è da aggiungere altro, decidete voi cosa fare. Vi ricordo che se volete maggiori dettagli trovate qua sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere questa maglia della Roma ma tante altre che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale, prima però iscrivetevi al canale, spingete questo pulsante, è un piccolo gesto ma che ci aiuta a mostrarvi maglie come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!